Mi chiamo Diego Finocchi e sono il proprietario dell'azienda Lerta di Radda. Sono Elisa Retini e sono la moglie di Diego Finocchi dell'Lerta di Radda. Ho sempre seguito molto a stretto contatto la produzione di mio marito, ma ho anche un percorso mio personale. La soddisfazione maggiore arriva da casa. Mi occupo di tutte le fasi della produzione, dalla potatura della vigna alla commercializzazione finale della bottiglia. Partire da zero in questo mestiere è molto difficile, bisogna impegnarsi molto, fare qualche rinuncia, ma alla fine si può fare. L'importante è crederci sempre, anche quando vedi che le cose non vanno bene, continuare a lavorare a testa bassa e prima o poi i risultati possono arrivare. Io e Diego ci siamo conosciuti all'università. Ho studiato viticoltura e enologia. Ci siamo poi rincontrati qualche anno più tardi. Lui ben radicato proprio nel posto dove è nato e è cresciuto. Io ho fatto un bel po' di giratine per il mondo, quindi sono stata un po' più cittadina del mondo. Averlo poi ritrovato con questi vigneti che aveva cominciato a coltivare da poco tempo è stato proprio un motivo per me per poter mettere radici e cominciare un percorso insieme.